Terrorismo mediatico inopportuno e diffamatorio, così il comune di Capolona definisce le polemiche scoppiate sulla previsione di una coltivazione di inerti in località Vignoli. Ecco i punti sollevati dall'amministrazione comunale. Il comune conferma che, come previsto dalla normativa, attualmente siamo nella fase di pianificazione urbanistica finalizzata all'individuazione dell'area di giacimento prescrizione localizzativa negli appositi strumenti. Nella successiva fase di valutazione di impatto ambientale verrà redatto il progetto di coltivazione e ripristino ambientale, dove l'amministrazione comunale, con ruolo di attore principale, individuerà ogni prescrizione ritenuta necessaria al perseguimento degli obiettivi per la tutela del paesaggio, dell'ambiente e delle attività esistenti. L'ultima fase di competenza esclusiva dell'amministrazione comunale è quella autorizzativa e prevede la predisposizione del progetto esecutivo, che dovrà necessariamente recepire le prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e le ulteriori che il comune riterrà opportune per la massima tutela. Il comune aggiunge che l'area in oggetto risulta in tutti gli strumenti di governo del territorio del comune di Capolona, piano strutturale redatto nel 2004, nel regolamento urbanistico del 2006 e il piano operativo adottato nel 2017 libera da vincoli ostativi allo svolgimento della coltivazione di inerti. Il piano regionale cave individua l'area in oggetto come area di giacimento. Stiamo parlando di una superficie lorda di circa 7 ettari ma l'oggetto dell'effettiva coltivazione ne occupa 5. L'attività di coltivazione continua il comune reversibile, transitoria e limitata nel tempo e al termine del periodo di coltivazione l'intera superficie verrà restituita al precedente uso e funzione agricola. Per assicurare il ripristino delle aree coltivate la ditta dovrà rilasciare a favore del comune una idonea garanzia fideiussoria. L'attività prevista riguarderà esclusivamente la coltivazione di sabbie e ghiaie senza la realizzazione di alcun impianto di trasformazione e lavorazioni inerti nell'area di coltivazione per disposizione di legge e vietato realizzare una discarica. Non potranno quindi essere depositati rifiuti nell'area. I mezzi utilizzati per il trasporto nel materiale coltivato si muoveranno in direzione Valdarno senza attraversare l'abitato di Cincelli e senza attraversare le frazioni di Pieve San Giovanni, Caffaggio e Castelluccio e lo storico manufatto di Ponte Buriano. Nel concludere la nota il comune di Capolona si fa garante dell'interesse del bene comune dell'ambiente del paesaggio delle aziende che creano e mantengono occupazione investendo gli oneri derivanti dall'attività di coltivazione circa 300 mila euro per opere utili alla collettività di Capolona mirate in particolare alle esigenze delle frazioni limitrofe alla cava quale fonte di risorse fondamentale per la nostra comunità.